ciao ragazzi eccoci qua non possiamo tanto gridare che voi lo sapete che noi ormai su questo secondo canale facciamo i video a orari improponibili tipo adesso è mezzanotte e noi abbiamo voglia di qualcosa di dolce e che si fa quando si voglia di qualcosa di dolce si mangia si cucina prima abbiamo pensato di farvi qualche ricettina con il nostro amato burro di arachidi di cui l'altro barattolo già è finito noi c'erano tutti due barattoli con la ricetta che abbiamo fatto il video se non l'avete visto ve lo lasciamo cliccabile qua insomma impressione uno già è finito prima che finisce pure questo nel senso vogliamo fare qualche ricettina che le ragazze ce lo stanno chiedendo tanto e abbiamo deciso di fare biscotti attimo di parico perché vogliamo fare un sacco di ricette biscotti al burro di arachidi che sono dei biscotti tipici americani che praticamente abbiamo guardato un po le ricette americane e abbiamo deciso di fare una versione sana poi facciamo sempre esatto esclusivamente zucchero uova e burro d'arachidi e a volte c'era chi ci metteva il burro noi quindi abbiamo detto aspetta 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 cambiamo facciamo una ricetta sana e leggera ma ugualmente buona perfetta per le nostre colazioni e merende sane ed eccoci qua con la mia bella aziendina che qua c'ho scritta tutte le mie ricettine sia cosmetiche che di cucina sono venuti proprio buoni questi biscotti quindi iniziamo subito siamo contentissime metteteci un bel pollice in su per la mia sorellina che mi piace di dormire è vero per la mia sorellina che mi piacciono tanto i video assieme se vi piacciono la farina di avena che è una farina che voi sapete che a me piace tantissimo ho fatto anche i miei pancakes ce la fai mi accorerebbe una cosa prima vi ho fatto anche la ricetta dei pancakes con la farina di avena l'ho fatta parecchia pancake porridge e porridge comunque la fatela mi piace tanto come farina perché ha un vasto contenuto di carboidrati e anche anche proteica ed è perfetta anche per i biscotti e comunque si trova in qualsiasi supermercato se non ce l'avete potete sostituirla con qualsiasi farina esatto che volete integrale zero noi vi consigliamo sì la farina quella la integrale cioè di grano normale integrale perché così potete anche prendere spunto perché noi vi ricordate che facciamo il video dei biscotti integrali frollini quindi va benissimo anche quella integrale anzi spesso pure noi abbiamo fatto benissimo vado a mettere burro d'arachidi yes burro d'arachidi e praticamente questo qua è il nostro praticamente condimento infatti in questi biscotti non metterò l'olio perché proprio non ci vuole l'olio cioè non ci vuole il altro olio o burro aggiunto perché già questo che contiene grassi che però sono molto buoni a differenza del burro animale questo qua è un grasso che fa tanto tanto bene e poi il burro d'arachidi contiene anche molte proteine infatti questi biscotti sono biscotti proteici e questa cosa non l'abbiamo detta niente la dobbiamo specificare e infatti noi saremo le uova e burro d'arachidi che sono proteici oddio c'è troppo bello ci avete chiesto ma si può conservare fuori dal frigo se non c'è bisogno adesso che inverno si fa tutto madò ma l'avete provato ragazzi sulle fette biscottate sul pane è qualcosa di strepitoso veramente sai che voglio provare a fare i pop corn con burro d'arachidi si dai guarda questa cosa ha venuto in mente no 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 ma come si vuole fare è l'amma fa mi faremo sapere si si biscotti ve li consigliamo come merenda sia pre che post workout perché sono comunque biscotti proteici ma anche se non adate palestra vanno bene perché sono sani e leggeri e molto bilanciati e poi sono buoni ovviamente la cosa fondamentale è importante a questo punto mettiamo la tubia che noi abbiamo deciso di mettere al posto dello zucchero perché sapete che lo zucchero bianco comunque fa male in alternativa se non volete questa potete mettere lo zucchero integrale zucchero integrale di canna che noi spesso lo utilizziamo nei biscotti però diciamo noi vogliamo fare proprio un biscotto leggero hilti per la palestra quindi senza neanche lo zucchero integrale quindi questi biscotti sono proprio super 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 dietetici proteici hilti e fit infatti la tubia ha zero calorie come la stevia si si però è meglio della stevia perché non sa di liquidizza non so voi a me non piace la stevia perché sa di liquidizza dolciastra un po' amara ha un letro gusto un po' particolare invece la tubia no è comunque molto molto buona poi noi l'abbiamo comprata al supermercato si trova si si trova dappertutto a zero calorie quindi anche per esempio le persone che sono a dieta oppure diabetici possono utilizzarla per dolcificare uova le uova le mettiamo perché sono per fare questi biscotti proteici quindi le mettiamo proprio apposta se siete vegani ovviamente non le mettete potete sostituire o con l'acqua o con il latte di soia se volete proprio una cosa dietetica al massimo o non ve li mangiate i biscotti oppure ci mettete l'acqua insomma o latte insomma noi ci mettiamo le uova per fare proprio proteici al massimo noi mettiamo un uovo e due albumi proprio per fare sempre una versione leggera leggera si invece del lievito bicarbonato per fare ancora più leggeri cioè questi biscotti su una riuma senza burro perché il burro di alacri non è burro vaccino senza latte senza zucchero senza gratis senza lievito perché il lievito a volte gonfia ovviamente voi se non avete il bicarbonato vedete sempre il lievito per dolci si il lievito per dolci mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio e impassiamo tutto non è che mi tagli le dita non è che mi tagli le dita no vedete l'orrore delle palline piccoline guardate è proprio la consistenza giusta guardate prendi un po' di pasta e fai le palline eh ma lì da palline tu devi fai le palline aiutatemi adesso si sporca le mani tu devi mettere anche i guanti se vuoi eh vabbè io faccio l'operazione di chi non ci no se li fai troppo grandi abbiamo dei biscottoni enormi ma a me piacciono assai i biscotti enormi doppi doppi ma non li abbiamo fatti un po' troppi? si abbiamo un po' esagerato magari ragazze potete diminuire la dosa se ne volete fare di più ho fatto qualcuno più grande voglio fare più voglio fare tipo biscottoni wow schiacciate e poi con questa simpatica rotellina guarda qui si può dare tutti i guadagini è bellissimo eh troppo bello master chef master chef biscuit è finito a fare biscotti stavo facendo i biscotti da un muro guarda questo come è grande mamma mia è palla è enorme guarda che bello questo è il biscottone questo lo do a te eeeh costa rotellino mi sono troppo divertita guarda bianchi a cacao andiamo a infornare pochi minuti eh non li fate stare troppo se no ti mettono delle tacche secche e si rompono i denti nancy guarda che bello questo wow un super biscottone grande grande buonissimo lo vuoi? si questi grandi grandi sono troppo invitanti guarda che bellini mi piace tutte queste stelline decorative qua i nostri biscotti sono fatti quelli bianchi e quelli a cacao solo per decorare abbiamo queste stelline colorate ma soltanto per una cosa visiva per decorare insomma troppo buoni e ci si sta mangiando tutti i biscotti ma ci si sta mangiando anche quelli bianchi troppo buoni si però quelli semplici bianchi solo col bro d'alachidi sono molto più buoni secondo me pure quelli la bianchi sono più buoni di quelli a cacao più semplici, delicati buoni però bianchi secondo me bianchi sono molto bianchi bianchi vincono speriamo tanto che questo video vi sia piaciuto metteteci un bel pollice in su e ci vediamo al prossimo video mua ciao ciao